Uno pensa sempre alla propria carriera come qualcosa di infinito, ma a parte il fatto che è il pubblico che decide quanto è lunga la carriera di un artista, perché se poi una cosa non piace vuol dire che il rapporto col pubblico è finito. E poi io penso sempre che, sono molto concreto, dico questo è quello che potevo fare, avevo a disposizione questo tempo e questo spazio per fare un disco. Se ci sarà la possibilità di farne altri, molto volentieri, ma per quanto ne so io questo dovrebbe essere l'ultimo.